E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E qui sta giocando a The Sims 4 Andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono AmazingFireGame, Irene, Liana, ChristianBoss84, Leo e Filip7 Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E allora, cosa andiamo a fare oggi con il nostro bel ristorantino? Oggi andiamo a fare un sacco di cose Allora, prima di tutto, dopo che abbiamo chiuso il gioco e ci siamo rientrati Siamo riusciti a chiudere il ristorante Ovviamente i clienti ci hanno lasciato un sacco di recensioni negative Quindi abbiamo avuto un'apertura terribile Quindi, allora, dobbiamo fare E vorrei dire anche una cosa prima che tu continui C'era di nuovo Cracco C'era di nuovo Cracco Riapparso in cucina Quindi è confermato, è stato un bug contro di noi Da 10 è lode proprio Contro di noi Tessa, tessa, sempre comunque Sì, hai ragione, hai ragione Comunque, allora, oggi io voglio provare a fare dei corsi di formazione Per i nostri lavoratori Perché abbiamo capito Dipendenti Che non sono molto bravi Parliamo in modo professionale Dipendenti Non sono bravi, non mi piacciono Quindi dobbiamo Soprattutto quella che sta alla cassa Esatto, lei è proprio negata ragazzi Terribile proprio, terribile Quindi facciamo questo E appunto sfruttiamo i punti che ci siamo presi Vedi questi Per comprare qualcosina Dobbiamo stare molto attenti Io pensavo di prendere qualcosa in questo stile Tipo un altro cameriere Magari un altro cameriere potrebbe essere una buona idea Anche questo, per 24 ore un maggior numero di clienti si fermerà a mangiare nel tuo ristorante No, aspetta, non siamo ben organizzati Io direi di farli prima formare Far formare i dipendenti Chef aggiuntivo Vediamo, vediamo Qua dobbiamo giocarcela di strategia E clienti curiosi che cos'è che è l'unico che possiamo prendere, scusami? Di tanto in tanto fa chiedere ai clienti un consiglio su cosa ordinare E sblocca la possibilità di suggerire piatti attraverso l'interazione No, questi li lasciamo perdere perché i nostri dipendenti non sono ancora esperti Quindi non vorrei che facciano disastri Diciamo che li lasciamo un pochettino per gli altri episodi Iniziamo ad aprire E secondo me ragazzi, come avevo detto Cracco se ne è andato Perché non ci abbiamo parlato molto Quindi in questo episodio cercheremo anche di avere più interazione Di sgridarli di più Di farli più complimenti In modo tale che diciamo siano più felici Non lo so, vediamo Proviamo cose diverse E vediamo come va Vi so che è andata male Abbiamo aperto primi due clienti Cracco sta già bruciando qualcosa È tutto ok Allora, il cameriere non so perché è qui fuori Simone, Simone su Scusi È ora di lavoro Allora Simone Ok, ha capito subito Lei come sempre sta facendo arrabbiare tutti Quindi Non mi piace quel cameriere Io te lo dico Niente a me Visto che il ruolo di Diana è quello di sgridare Adesso la sgridiamo Ok E le facciamo fare un corso di coso La formazione Esatto, la formazione Bravissimo Accelerato Perché abbiamo poco tempo qua da perdere Ci serve molto in fretta Subito, subito Il ristorante deve andare Vai a lavorare perché non sei brava Te lo diciamo proprio nel modo Meno gentile possibile Guarda come la critica C'è proprio Diana non usa mezzi termini È proprio Sa come si gestisce un ristorante Grazie Apprezzo che qui si investa sul mio futuro Inizierò a frequentare il corso La prossima volta che staccherò dal lavoro Quindi per oggi farà totalmente schifo Quindi esatto Per oggi ci lascerà così Buttati Allora Metti Sterinichi a parlare con i clienti Esatto Sterinichi al momento non sta facendo nulla Quindi mettiamolo a parlare con i clienti Così li può rallegrare Ma come sempre È lui Fammi vedere un attimino Sì Chi è quell'altra? Non è la moglie Io ti farei notare questa cosa Catrina Catrina Chi sei? Chi sei? Comunque guarda che quando Tina ci stava provando Lui all'inizio mi è sembrato un po' intenzionato Poi è arrivata la moglie e se n'è andato Quindi magari Bjorn è un po' furbacchione Adesso che Tina poi diventa la migliore amica di sua figlia Scopriremo molte più cose Scopriremo molte cose Esatto Allora quindi mettiamo anche lui Sempre accelerato Perché gli altri non ce li abbiamo disponibili È troppo avanzato Sì sono più avanzati I corsi più avanzati Iniziamo da quello base Allora parliamo un pochettino Cracco non ha bisogno Con Cracco Cracco non ha bisogno Allora Però bisogna parlarci e tenerlo tranquillo Perché altrimenti scappa di nuovo Funziona così Stereniki parla con i clienti Ok Ok perfetto Diana parla con i dipendenti Ok Ti piace? Mi piace come idea Sì sono d'accordo Sono d'accordo Perché tu per i corsi Volevo vedere subito se ci sarebbe stato un miglioramento invece di una matematica Vabbè anche giusto I corsi alla fine sono lunghi Sono cose che vanno fatte nel tempo Quindi speriamo che però non facciano più arrabbiare i clienti Esattamente Allora io Cracco lo voglio dare adesso Perché secondo me la scorsa volta stava lavorando benissimo E se ne è andato proprio perché non ha sentito questo apprezzamento da parte nostra Secondo me sai che è successo? Ok L'ha chiamato testa al cellulare Gli ha detto cosa ne so Guarda che tua moglie ha avuto un incidente Quindi lui è scappato No Dici Perché secondo me non penso che un cuoco come lui ci potesse abbandonare in quel modo Secondo me non è plausibile questa cosa Buona teoria Comunque si sta lamentando anche lui che alcuni piatti sono troppo difficili Comunque Quindi io direi che li paghiamo anche per la sua formazione Investiamo 150 dollari su T3 Ok Mi sembra la cosa giusta da fare E nel mentreco abbiamo servito i primi piatti Quindi io credo che siano felici perché abbiamo servito in fretta Wow guardate qui Una vera Lecornia 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 Che cos'è? Non l'ho mai sentita in vita mia questa parola Quindi Guarda che ogni tanto mi stupisci davvero Io stavo leggendo un'altra finestrella che ha apparsa e ti sento dire lecornia Ma in che mondo viviamo? Lecornia vuol dire una cosa molto buona, molto squisita Ok Ha ragione, ha ragione Sì va bene È ovvio che cucina cose buone Hai ragione Bjorn Hai ragione Offro dei dessert per ignorare questa figuraccia diciamo Guarda che sono tutti abituati Le fai ogni video Cioè ormai La figuraccia tua Sai che cos'è? Oh mio dio bambino Il primo bambino E sei carinissimo Ciao È quella Stereniki Sembra il figlio Potrebbe essere il figlio di Stereniki e Diana perché uguale Ti volevo dire che ormai le tue figuracce sono come i bug Una ad ogni episodio e siamo tutti contenti Guarda, guarda Ma andiamo Non può andare a giocare Non possiamo dirgli Guarda che c'è il parco giochi per te È arrabbiatissimo Perché sei così arrabbiato? Perché stai andando in cucina? Che ci fai lì? Non lo so Infatti sta litigando con questa ragazza È un bambino capriccioso Secondo me di quei bambini capricciosi Che entrano pestando i piedi Perché vogliono già il dolce I genitori invece guarda Lo ignorano Tutti al tavolo e l'hanno mollato in giro Pauro bambino Loro hanno finito Stanno andando da qualche altra parte Adesso arriva anche una copietta di vecchietti Oggi chiunque Dove andate ragazzi? Cioè Io non vorrei dire nulla Quindi non dico nulla Allora io ho scelto un posto carino Per il ristorante non mi rompere Non è che se siamo in mezzo al verde Tu allora ti lamenti ok? Ok va bene va bene Non te ne frega niente di dove vanno i clienti L'importante è che nel nostro ristorante Siano soddisfatti e felici Tutte le volte viene qua Sia se giochiamo con le cavie Sia se giochiamo con Sterinichi e Diana Lui c'è sempre comunque Guarda la moglie di Bjorn Guarda la moglie di Bjorn Oh mio dio Con chi è? Con questo qua? Sì Ma che famiglia è ragazzi? Sono una famiglia di infedeli Traditori Che cosa sono? Non lo so ma Io sono sciocato Dovremmo scoprirlo Dovremmo scoprire bene anche questo Sarà probabilmente le nuove persone Che andremo a spiare Guarda io te lo dico Sono troppo curiosa Ma andiamo Sterinichi comunque a parlarci Perché magari riesce a sentire qualcosina Magari riusciamo a capire qualche gossip tra di loro Oddio Ha cucinato Guarda sta cercando di nascondere il fatto che puzza Sta cercando di salvarlo in qualche modo Ha cucinato qualcosa di avanti Cracco Dobbiamo sgridarlo Secondo me non gli piace lavorare nella nostra tavola calda Tu che dici? Non lo so ma ho messo Diana a sgridarlo Ma Diana non ti permettere più Di servire cibo scaduto ai clienti E poi sorride subito dopo È fantastico ogni volta Probabilmente le piace sgridare i clienti Mi darò una regolata e non commetterò altri errori Questa notte non ho dormito molto bene Cracco Ma se te ne sei andato via alle due del pomeriggio Cracco guarda Avevi tutto il tempo di dormire Ha fatto un valdoria di notte Guarda ci sta dicendo bugie Sì 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 Ci sta dicendo bugie Perché è già pronto il piatto per loro Bene 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 Vediamo cosa prendono Sono curioso di vedere che cosa mangia il bambino Come sempre il piatto vuoto Bellissimo Vediamo un po' Dog dog Si è preso lo dog Guarda un po' Stiamo salendo Una stella e mezzo Una stella e mezzo È un momento bellissimo È un momento bellissimo I nostri source stanno proprio dando i frutti Capito? Abbiamo pagato la formazione a tutti E guarda i punti extra come stanno salendo Cioè in questo momento possiamo già prendere il secondo cameriere A prendiamo il secondo cameriere dai Non lo so Dai prendiamolo Oppure che dici? Cosa ci possiamo prendere? Voglio prendere qualcosa Te lo dico Voglio prendere qualcosa Voglio spendere i punti Tanto adesso stiamo formando tutto il personale Quindi sicuramente dalla prossima apertura Andrà 3000 volte meglio E con i punti che facciamo Prendiamo anche il nuovo cameriere Dai perché se va meglio Facciamo anche più punti Che è successo? Che invece non guardavi Ho preso il cameriere aggiuntivo Perché continua la regola Tutto quello che dici Non si fa Mi piace È bellissima Mi piace tantissimo Quindi io continuo A vivere con questa filosofia di vita Non mi puoi lanciare uno specchio Non mi puoi lanciare uno specchio Mettila a posto Stai calma Sai che ti potrei ammazzare in questo momento? Sì la so Chiedimi scusa No no Chiedimi scusa C'è bisogno Attenzione Nuovi piatti Devo procurarmi più armi Nuovi piatti Abbiamo servito un tosto e scaduto Abbiamo servito un tosto e scaduto Io spero che non se ne accorgano Ma che avveleniamo Vincenzo una volta per tutte Oh mio Dio Te l'ho detto che do Guarda Io non ho parole Non ho parole Fai pulire a Sterenichi subito Perché queste cose non devono più succedere Sgridiamolo Sono un disastro Sgridiamolo Dove? Diana Diana Sgridalo subito Guarda Fa anche finta di nulla Criticalo Spaccali la faccia Valutazione aumentata Due stelle Siamo arancioni Non siamo più rossi Vuol dire che facciamo un po' meno schifo Facciamo un po' meno schifo Sono davvero felice Guarda che mi piace un sacco Questa cosa dei ristoranti Vero? Sto dicendo Mi sta facendo voglia Venire voglia di aprire un ristorante Non è vero Però è bellissimo Mi sto davvero gasando tantissimo Concentrata su Cracco Perché se sbaglia qualcosa Bisogna subito criticarlo Adesso gli chiediamo Come va il lavoro Così si sente comunque calcolato Ma lo vuoi cameriere? Scusa Ah lo dobbiamo mettere Nella gestione Dei dipendenti Giusto? Sì Credo di sì Dobbiamo farlo Però non c'è il tempo Perché è pieno di clienti Stanno andando via anche loro Guarda che bravo Da quando l'abbiamo sgridato E un cameriere esemplare Non fa più cadere nulla Lo spero Ok allora Siamo aperti da autore Io non voglio far arrabbiare I nostri dipendenti Quindi ci fermiamo così Quindi impostiamo Che non ammette nuovi clienti Ok Perfetto Perfetto A questo punto Pensiamo a questi Cinque clienti Che sono rimasti Li facciamo felicissimi Esatto E a quel punto Chiudiamo E vediamo tutte le recensioni Come sono andate Per capire un pochettino Assumiamo anche il nuovo cameriere Cosa migliorare Sì 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 Dai 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 Lo facciamo Prima di chiudere lo facciamo Ok allora Vediamo un po' Abbiamo No ma sono tutti scarsissimi Vedi perché Che ti devo dire Probabilmente li dobbiamo formare noi Cosa ti devo dire Oppure dobbiamo chiudere E domani quando riapriamo Abbiamo due stellini Invece che uno Magari ci propone qualcuno di più bravo Dai io direi di aspettare Alla prossima giornata di lavoro Ma io voglio adesso No 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 Perché non mi fai fare nulla Perché sono scarsi Poi buttano le cose per terra Come gli altri ti arrabbi tu E poi ti arrabbi tu E certo La formazione ci vuole una vita Quindi secondo me Non è così semplice Voglio l'alieno Voglio Cristina l'alieno No non ne voglio alieni Perché così iniziamo Sono brutti Non sono brutti Stai dicendo che poi La nostra Lia è brutta No Lia è bellissima Lia l'ho creata Ma Lia è un alieno speciale Capito È proprio un alieno speciale a sé Che è bellissima Carinissima Ma secondo me se tu assumi Un cameriere alieno Saranno più propense Anche gli alieni a venire Scusa perché Se tu vuoi le famiglie Vuoi tutti i tipi di clienti Perché non far entrare anche gli alieni Sono clienti più Soldi in più Non capisci niente di marketing No 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 Non mi sta piacendo Non sai come gestire un ristorante Comunque Vedrai che tutti vorranno Il cameriere alieno Esattamente come me Vedrai Eppure le stelline Continuano a crescere E siamo due e mezzo Cameriere alieno Il mio modo sta funzionando Mi dispiace Comunque ho visto una cosa Guarda che su sport Non ti dà ragione nessuno Quindi Non tirare in mezzo le altre serie Devi solo stare zitto Qui stiamo registrando La nostra Registrando Stiamo gestendo La nostra tavola calda Attenzione che scotta Stiamo anche registrando In effetti E io sono bravissimo Ma volevo dire Che i tuoi fallimenti Vanno sempre sottolineati Quindi chiuso il discorso così Perché se no La finiamo a litigare Per un'altra mezz'ora Ok Ok Abbiamo finito Sai cosa ti dico? Chiudiamo Che facciamo i complimenti a tutti Perché è finita la giornata Quindi Va bene Siamo sopravvissuti Nessuno ci ha abbandonato Quindi direi sì Che è il caso di fare dei bei complimenti Esatto Chiudiamo E leggiamo un pochettino Il resoconto di come È andata la giornata Vai vai Sono curiosissima Allora Riepilogo del turno Clienti serviti 14 Aperti per 10 ore Buonissimo Abbiamo guadagnato 115 dollari E ne abbiamo appena speso 450 Per le formazioni È un investimento per il futuro Più i clienti saranno felici Più noi guadagneremo Se lo dici tu Io mi fido Dopodiché Vediamo un pochettino Allora Qualità del pasto Prova a formare gli chef E per sviluppare le abilità Quindi Il qualità del pasto Non ci siamo Mediocre Il servizio Non è piaciuto molto Il tocco personale Invece sì Come titolare Sì un fenomeno Ma su questo Non avevo dubbi Guarda Con Diana Con Diana Che sgridava i dipendenti E Sterenichi Che gli serviva Quando erano un po' Ok Secondo me siamo stati eccezionali Infatti guarda le recensioni Le stelline gialle Dalla felicità Da quanto Da quanto siamo andati bene Attenzione che scotta Sta iniziando a diventare Una tavola calda famosa Che cosa? No 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 Volevi finire la frase Scusa Scusa No dai dimmi Che ci sono anche Le recensioni Sui dipendenti singoli Quindi vediamo Non sono le recensioni Infatti era la cosa Che dovevo dire io È il fatto che Stanno migliorando Vedi? Adesso è livello 2 Pensavo che poi Ognuno dicesse Tipo con questo Camerini e Remy Sono trovata bene Con questo invece no Invece no Dai stanno migliorando Stanno migliorando Sì 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 Vedi? Praticamente Lui è diventato Livello 2 Livello 2 Quindi Cracco al momento Il più scarso Livello 3 Livello 3 Livello 3 E livello 3 Loro 2 sono saliti Invece lui Oggi è rimasto un po' così Però Adesso saliranno ancora di più Perché stanno facendo il corso Adesso Esatto Diventeranno dei fenomeni Fanno il corso E quindi diventeranno bravissimi Bellissimo Mi è piaciuto un sacco Sono soddisfattissimo Secondo me le cose Stanno andando davvero bene Di sicuro però Per fortuna non si è bagato Per fortuna siamo riusciti A chiudere E concludere una giornata Nel meglio dei modi Esattamente Direi che ci possiamo Ritenere soddisfatti Però c'è una cosa Che ti voglio chiedere Hai notato che il massimo Che riusciamo a fare È sempre tre stelline Sì Sì L'ho notato Eppure qua possiamo arrivare A cinque Quindi ci sarà davvero Un sacco di roba da migliorare Se vogliamo arrivare A cinque stelline E mica le cose qua Sono facili Ce le dobbiamo meritare Anche perché stiamo Guadagnando una miseria Assolutamente Ok per questo video Ci fermiamo così I prossimi episodi Ti dico Vediamo un pochettino Come vanno i corsi E decidiamo se magari È ora di licenziare qualcuno Cracco Qualcuno Vediamo un pochettino Non lo so Non ci provare Non ci provare Guarda vediamo Vediamo A me non piace molto La direttrice di sala Neanche a me Mi sta antipatica Devo essere sincera Valuteremo se mandarla via E magari assumere qualcun altro Comunque prima di chiudere il video Andiamo a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Silvia Ero Ero Braina Andrea Bike96 Luca Super X E Mario Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video è così Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao